posto anche di fare una presentazione del libro di Alessandro e magari potremmo incaricare Ernesto, visto che è stato chiamato in causa per la presentazione, ovviamente quando lo leggerà. Sì, appunto, bisogna che qualcuno legga. Sì, tranquillo, siamo tutti grandi lettori. Allora, intanto prima di tutto siamo in diretta, quindi benvenuto a chi ci segue. Siamo qui per fare un po' il punto su quelle che sono le politiche economiche e industriali messe in piedi dagli Stati Uniti d'America e che comportano, come sapete, anche un travaso di produzioni che vengono portate via dall'Europa proprio in favore degli Stati Uniti d'America per il grande effluvio di denari messi a disposizione dall'amministrazione americana per consentire un rientro di produttività nel territorio degli Stati Uniti. Io non dico più molto perché molto invece lo dirà Alessandro Scassarati, a cui do subito la parola per introdurre, raccontare un po' questa vicenda e poi chiaramente raccogliere eventuali stimoli che possano aggiungere da chi partecipa. Grazie ancora Alessandro, a te la parola. Grazie Roberto. Io farei una presentazione in due momenti. Un primo momento per fare un ragionamento più generale e poi un secondo momento invece per entrare magari un po' nelle misure specifiche di politica industriale tra Stati Uniti e Unione Europea. Però il discorso generale deve includere un terzo soggetto che è la Cina e io partirei da lì perché per spiegare perché Unione Europea e Stati Uniti in questo momento si stanno preoccupando di rimettere in piedi delle politiche industriali che sono cose che risalgono agli anni settanta, diciamo qualcosa ancora negli anni ottanta, almeno in Europa, però sono 40 anni che di politica industriale non se ne è vista traccia, diciamo. E come mai adesso? Allora la Cina è entrata nella WTO, cioè nell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001. E diciamo nella fase dell'espansione neoliberale, dove gli accordi free trade la facevano da padrone e ha cavalcato quest'onda, è diventata prima la fabbrica del mondo e poi qualcos'altro. Ecco, c'è stato poi il passaggio della crisi del 2008-2009, dove mentre negli Stati Uniti si è fatta una grande fatica ad approvare un pacchetto finanziario che poi tutti hanno poi giudicato insufficiente durante l'amministrazione Obama e poi sono intervenuta la Fed, la Federal Reserve con il quantitative easing e l'abbassamento dei tasso di interesse. La stessa cosa è successa in Europa con molto ritardo, senza pacchetti, senza pacchetti di intervento. Solo con Mario Draghi noi abbiamo avuto il quantitative easing e l'abbassamento dei tassi di interesse. Ricordo che prima c'è stata la crisi dell'euro, la Grecia, tutti la ricordiamo, la Troica e soprattutto c'è stata la politica di austerità. In Europa si è reagito alla crisi del 2008-2009 tagliando ulteriormente le spese dello Stato e tutto quello che veniva considerato non necessario e poi ci siamo infilati dentro una situazione di crisi e di stazionarietà. Ora invece la Cina come reazione alla crisi del 2008-2009 ha applicato quella che si potrebbe definire una politica keynesiana, cioè ha speso circa 580 miliardi di dollari in investimenti pubblici, dalle infrastrutture, i treni veloci, tutta la parte anche di immobiliare da cui per esempio poi negli ultimi tempi abbiamo avuto la bolla immobiliare cinese che è ancora in corso. insomma ha reagito siccome l'economia cinese era legata all'export verso Stati Uniti e Unione Europea in una situazione di crisi ha investito soldi e soprattutto ha cominciato a fare una torsione piuttosto forte rispetto al proprio mercato interno. Nel frattempo sono anni in cui c'erano, adesso non sappiamo esattamente quanti siano oggi, ma all'epoca si valutavano circa 300 milioni di persone che stavano già dentro la classe media cinese e quindi potevano avere anche dei consumi. ecco, ora, quindi diciamo, questa è stata la reazione e ulteriormente ecco la Cina si è inventata dei piani, si è inventata, diciamo, la Cina ha sempre ragionato in termini di piani, però ecco sono i piani, in particolare il piano Made in China 2025 e il piano di integrazione civile militare. Ecco, ed è qui che scatta tutta la, diciamo, l'ansia e l'angoscia degli Stati Uniti e dell'Unione Europea perché il piano Made in China prevede sostanzialmente cospicui investimenti con l'obiettivo di costruire una Cina autosufficiente almeno, insomma, ecco, dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista produttivo con dei campioni nazionali in grado di stare dentro la globalizzazione in dieci settori, aereo spaziale, robotica, veicoli alimentati da nuove energie rinnovabili, trasporto marittimo ad alta tecnologia, intelligenza artificiale e tecnologia dell'informazione di prossima generazione. Quindi qui parliamo 5G ma anche 6G, biotecnologie, energia e generazione di energia, trasporto ferroviario avanzato. Ricordo che anche a seguito degli investimenti 2008-2009 credo che la Cina abbia 70.000 chilometri di, come si dice, di frecce rosse per intenderci, ecco, di treni ad alta velocità. Poi nuovi materiali prodotti con le terre rare, il litio, il cobalto e i nanomateriali e infine le macchine agricole. Quindi diciamo, su questo bisogna considerare anche i soldi che vengono messi e alcune cose visibili sono per esempio il fatto che nello spazio la Cina è andata sulla Luna e ha fatto atterrare un robot mobile su Marte. Insomma, stiamo parlando di un soggetto che non è più solo la fabbrica del mondo che produceva lo sconto cinese, che è quello che ci ha consentito a noi europei e americani di avere salari sempre stazionari o addirittura decrescenti, però senza dover completamente sconvolgere il nostro stile di vita dal punto di vista dei consumi. Ecco, la Cina adesso ha puntato, almeno da oltre dieci anni ormai, a fare delle cose diverse, molto più avanzate, che sono la frontiera della tecnologia. Ricordo un altro fatto, che l'anno scorso, diciamo nel 2021, adesso i dati del 2022 non ci sono ancora, 1,4 milioni di cinesi si sono laureati in materie, in programmi, in materie scientifiche. Ecco, quindi questa è anche poi la dimensione su cui bisogna fare i conti, no? Ecco perché. E poi, ultima notizia, poi passo ad altro, è che recentemente è uscito un rapporto di uno di questi team tank australiani di cui bisogna molto diffidare perché sono sempre finanziati da industrie militari o comunque sono molto aggressivi, nel senso sono dei propugnatori della guerra fredda, però questo Australian Strategic Policy Institute sostiene di aver fatto uno studio molto accurato e di aver scoperto che fondamentalmente la Cina oggi ha la leadership in 37 su 44 tecnologie avanzate, le altre 7 sono in mano agli USA, che ha i vaccini, il quantum computing, i sistemi di lancio spaziale, ma le batterie, l'ipersonico, le frequenze, le comunicazioni attraverso frequenze radio avanzate come il 5G, il 6G, c'è la Cina. E poi tante altre cose. Ora, poi un ultimo elemento è quello che se ragioniamo sulle terre rare, oggi praticamente il 60% delle terre rare per quelle che sono state individuate, quindi dove si fa attività mineraria, e per l'80% della raffinazione sono fatte in Cina. Quindi lo stesso vale per il litio e per altri la Cina ha siglato per esempio degli accordi con Cile, con la Bolivia rispetto al litio e così via. Quindi, cosa è successo? È successo che Obama, quindi la risposta americana, è cominciata a arrivare nel periodo di Obama, se qualcuno di voi si ricorderà, il pivot to China, pivot to the Indo-Pacific, China, quindi lo spostamento dell'attenzione verso l'Indo-Pacifico, che poi è una costruzione recente come concetto geostrategico, e l'attenzione alla Cina. E poi aveva cercato di sostanzialmente escludere la Cina da un accordo free trade che era molto simile a quello che doveva legare anche l'Europa con gli Stati Uniti, che poi invece, siccome aveva perso la maggioranza al Congresso, i repubblicani non ne volevano più sapere di accordi free trade, questa cosa non è mai stata ratificata e l'accordo poi è stato portato avanti dal Giappone che ha creato comunque questo accordo e la Cina, l'anno scorso, ha chiesto di entrare a farne parte. Obama aveva cercato di escludere la Cina sul piano economico attraverso un accordo free trade, ma non è andato in porto. Poi siamo arrivati a Trump. Trump è stato eletto, nelle sue dichiarazioni era sempre molto battagliero nei confronti della Cina, l'accusa era che gli americani erano stati in realtà truffati, che la Cina aveva rubato le tecnologie americane, tutta una serie di altre cose molto aggressive, però non è successo praticamente nulla. Io mi ricordo che la prima avvisaglia è stata una partecipazione di uno dei teorici, uno degli ideologi di Trump, cioè Steve Bannon, a un incontro che si tiene annualmente in Giappone, a Tokyo, credo a Kyoto. Sono i conservatori giapponesi che ovviamente non vedono la Cina di buon occhio e mi ricordo di avervi seguito proprio l'intervento di Bannon, perché all'epoca Bannon mi interessava, mi sembrava una specie di Lenin di destra. Ecco, allora praticamente lui fece un attacco ad alzo zero e dicendo che la Cina, che la lotta era fra Stati Uniti e Cina per l'egemonia, per il controllo del mondo e tutto il resto. Poi nel 2018 sono arrivati le prime interventi di Trump contro aziende cinesi, in particolare la ZTE, Huawei, e misure protezionistiche nei confronti dell'acciaio cinese, nei confronti dei pannelli solari della Cina, eccetera, eccetera, di cui si è discusso molto. Molte aziende americane, vista l'interconnessione da un punto di vista delle catene del valore, delle supply chains, erano anche abbastanza sconvolte rispetto a questo e soprattutto anche rispetto a aziende come General Motors, piuttosto che la Ford, che avevano investito nell'industria automobilistica in Cina, e alcuni di questi prodotti venivano anche poi esportati negli Stati Uniti. Diciamo che Biden praticamente non ha abolito queste misure protezionistiche introdotte da Trump, ma anzi ha aggiunto alla lista nera delle aziende e diciamo tutta una serie di altre aziende, soprattutto nelle tecnologie super avanzate legate soprattutto al mondo digitale. E l'altro passaggio è che ha cominciato a fare anche delle esclusioni, già Trump, ma qui esclusioni dal mercato, l'impossibilità di fare acquisizione da parte dei cinesi, delle imprese cinesi e un crescendo diciamo che va avanti ancora oggi. Ecco, poi appunto Biden ha proposto, spunto, mi sicuro anche in una logica sempre giustificata a questo punto con la competizione con la Cina, perché è l'unico argomento, ricordo, dal punto di vista politico che mette insieme i democratici con i repubblicani. Ora, fino a, diciamo, allo scorso novembre Biden aveva la maggioranza in entrambe le camere, quindi al Senato e alla Camera dei rappresentanti, da novembre invece, diciamo, da adesso, da gennaio, fino al 2024, fino alle prossime elezioni, praticamente il Senato è controllato dai democratici, mentre la Camera è controllata dai repubblicani con una maggioranza piccola, ma comunque decisiva. E i repubblicani, come abbiamo seguito in questo periodo, soprattutto si è evidenziato in questi ultimi mesi di guerra dell'Ucraina, ecco, sostengono che praticamente, forse ci faranno la campagna elettorale sopra, che la guerra in Ucraina è la guerra di Biden, mentre invece la guerra americana è quella che bisogna combattere contro la Cina. Quindi, per loro, adesso, questo discorso della Cina è fondamentale e centrale. Però è l'unico... Allora, Biden ha fatto una serie di pacchetti, di pacchetti, di cui Build Back America era una roba da 4,5 miliardi, che poi non ha riuscito, trilioni di dollari, scusate, e poi non è riuscito a far passare per l'opposizione dei democratici moderati, diciamo, in Manchin, quando c'era la maggioranza, e poi invece è riuscito a far passare comunque un pacchetto di infrastrutture e lì c'è dentro l'America ha bisogno assolutamente di rinvestire nelle infrastrutture, ci sono i ponti che cadono, un po' come in Italia, ci sono una serie di... anche l'America non ha un chilometro di alta velocità ferroviaria, faccio pensare, c'è addirittura il Marocco, ma l'America non ha un chilometro, lo sta costruendo adesso una linea ferroviaria ad alta velocità la solita Astal di italiana che credono allo stato della Georgia, però fino adesso la ferrovia e poi sappiamo io ho scritto degli articoli ultimamente sui deragliamenti ferroviari, ce ne sono più di mille all'anno e ci sono treni che portano 150 vagoni, però ogni tanto questi deragliano e costruiscono e determinano anche dei disastri dei disastri ambientali perché sono carichi di prodotti chimici come il cruro di vinile oppure il famoso gas liquefatto e così via, quindi sono delle bombe in movimento su delle ferrovie che siccome sono private, le ferrovie private cercano di risparmiare il più possibile e stiamo parlando di ferrovie private come quella ultima dove è uscito fuori il treno a East Palestine in Ohio che hanno 193 mila chilometri di linea ferroviaria ecco insomma di proprietà quindi non me lo betta la poco allora cosa succede? Che è riuscito a far passare questo pacchetto sulle infrastrutture e lì dentro c'è già delle misure protezionistiche piuttosto forti l'acciaio che si usa il cemento che si usa deve essere prodotto negli Stati Uniti il ferro deve essere prodotto negli Stati Uniti quindi l'Europa da questo punto di vista è già esclusa ammesso che sia in condizione di esportare il passaggio successivo è stato quello sono due allora uno è il cosiddetto Chips Act Chips and Science Act che riguarda i microprocessori e l'altro invece è l'Inflation Reduction Act che è una roba uno di quelle cose un po' all'italiana perché dentro ci stanno è un pacchetto da 730 e passa a miliardi di dollari ma diciamo ci sono è stato congegnato con per cui 373 70 miliardi circa vanno nella sicurezza energetica e nel cambiamento climatico ed è la parte industriale su cui si è creato il conflitto con l'Europa con l'Unione Europea poi ci stanno 300 miliardi che servono per la riduzione del deficit e il deficit è una delle questioni spinose ricordo che il 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 debito gli Stati Uniti ha superato i 31,4 trilioni di dollari che è il tetto che è stato era stato fissato dalle diciamo dalle camere e quindi adesso fra nel giro di già si discute accanitamente ma quando arriveremo a giugno siccome questa roba se non viene risolta entro settembre c'è il default degli Stati Uniti ecco quindi è una cosa che non potrebbe essere non molto piacevole e praticamente si dovrà discutere di questo ovviamente i repubblicani pretendono in cambio il taglio di tutta una serie di spese legate al Medicare al social security cioè le spese sociali e e e vedremo come andrà a finire ecco però qui ci sono 300 questo pacchetto che dicevo dell'Aira Inflation Reduction Act ci sono 300 miliardi per la riduzione del deficit e ci sono poi 135 miliardi per l'estensione della copertura sanitaria ecco perché negli Stati Uniti comunque c'è un sistema ci sono dei sistemi pubblici di sanità che sono da una parte quello che riguarda i veterani hanno tutto un circuito loro i veterani delle guerre i militari con ospedali eccetera eccetera e questo è a carico dello Stato federale poi c'è il ci sono due programmi diciamo il Medicare e il Medicaid allora questi sono dei sistemi che sono dedicati uno agli anziani over 65 e l'altro invece a persone che sono in povertà quindi con la possibilità di avere diciamo la parte sanitaria coperta e quindi anche le medicine e le visite e tutto il resto poi ovviamente c'è Obama aveva fatto passare l'Affordable Care Act per cui negli Stati Uniti come sappiamo cioè praticamente una delle cose o ti compri l'assicurazione direttamente che sono poi carissime tutta roba tutte assicurazioni private oppure c'è il datore di lavoro che nel pacchetto come dire di oltre che del benefit uno dei benefit è l'assicurazione ovviamente assicurazioni possono essere di vario tipo e quindi uno poi scopre spesso che quando gli serve quella roba che le motivazioni per cui non è coperto da quella assicurazione quindi fondamentalmente o va in banca rotta oppure finisce che muore insomma molto molto semplicemente ora diciamo qui per esempio questa parte qui quindi per questo diceva l'italiana perché ci stanno dentro cose che diciamo riguardano l'attività industriale ma anche la parte sanitaria era addirittura la riduzione del debito ora la cosa interessante è cosa cosa riguarda questo discorso dell'IRE quali sono i temi allora diciamo su cui si va su cui si mettono 369 370 miliardi di dollari sono ovviamente le stesse cose su cui la Cina ha intenzione ha messo ha cominciato a mettere già anni fa a fare le sue politiche industriali e quelle su cui anche l'Unione Europea adesso dice con il suo Green Deal Industrial Plan di voler investire cioè le solite batterie elettriche delle macchine che adesso saremmo condannati tutti nei prossimi anni a comprarci la macchina con la batteria elettrica ma lo dico semplicemente perché personalmente considerano una soluzione ridicola il fatto che adesso si passa dalla combustione alla batteria ma sempre l'automobile bisogna avere cioè non c'è nessun ragionamento su forme di mobilità soprattutto almeno nelle aree urbane che siano effettivamente alternativa al possesso dell'automobile individuale come fatto che ogni famiglia ogni persona deve avere un'automobile quindi le batterie tutta la parte che riguarda le energie rinnovabili qui entrano dentro i pannelli solari entrano come dire la parte sull'eolico le pompe di calore e così via poi c'è tutta la parte sulla industrializzazione dei nuovi materiali dei nuovi minerali cioè le terre rare il cobalto che è appunto il cobalto è una componente fondamentale rispetto alle batterie elettriche e il litio anche questo e diciamo ecco tutta una serie di materiali che di minerali che poi dovrebbero essere gli elementi quelli che su cui si costruisce il capitalismo diciamo verde ecco che dovrebbe essere in teoria almeno secondo quello che ci viene raccontato anche sostenibile qui il discorso è questo aeree americano prevede appunto dicevo circa 370 miliardi di cui 270 saranno gestiti dal direttamente dal tesoro americano soprattutto nella forma di incentivi fiscali ecco perché qui ovviamente i protagonisti assoluti sono le imprese private non c'è cioè lo Stato mette i soldi in questo caso ma questi soldi vanno alle imprese nella forma di sussidi o di incentivi e di incentivi fiscali la cosa interessante del modello Biden è che ci sono delle condizionalità cioè Biden in realtà cerca di costruire una nuova ci prova ecco poi vedremo se ci riesce una nuova una nuova coalizione social diciamo socialdemocratica con un compromesso tra capitale e lavoro almeno nelle intenzioni e questa condizionalità riguarda il tema alcuni temi la formazione dei lavoratori assicurare la diversità quindi vuol dire l'assunzione di donne e di minoranze ecco l'inclusione rispetto alle comunità che accolgono gli impianti e e poi soprattutto la possibilità che i lavoratori si sindicalizzino cioè che ci sia il sindacato dentro queste imprese e quindi la possibilità di avere alti salari ecco questa è un po' la sostanza perché nella nella situazione americana il sindacato non è automatico che entra dentro un'azienda deve fare delle lotte pazzesche bisogna fare e ci sono delle strategie da parte delle imprese che combattono poi c'è tutta una legislazione che in molti stati praticamente diciamo rende molto molto difficile la formazione di un sindacato all'interno di un impianto e quindi invece ecco questo questo discorso diciamo tra le condizionalità fondamentali sono queste del lavoro ecco del lavoro poi ci sono altre condizionalità questo è importante perché lo vedremo anche rispetto alla differenza dell'Unione Europea che ovviamente sul lavoro cioè su diciamo i vari assi su cui pensa di intervenire con il suo piano l'unico che riguarda il lavoro è quello di aumentare gli skills dei lavoratori quindi la formazione non si parla assolutamente né di salario né di sindacato né di niente di tutto questo né di buoni né di buoni salari diciamo no si parla unicamente poi vedremo di investimenti ancora qui nel caso appunto il nel caso americano il i crediti fiscali diciamo quindi gli incentivi fiscali possono essere anche il 25% per gli impianti industriali e qui insomma ci sono un certo numero di miliardi che vengono vengono dedicati a questo ecco l'altra l'altra cosa l'altro pacchetto diciamo è quello sui semiconduttori quello che si chiama il chips and science act e qui ci sono circa messi 52 miliardi di dollari ancora qui anche qui diciamo sono 39 milioni per sussidi per la produzione industriale e poi ci sono il 25% invece come come forma di tax credit quindi per chi fa impianti industriali ovviamente qui il discorso della competizione con la Cina è fondamentale tanto è vero che le aziende che firmano questi questi accordi diciamo di sussidio di tax di tax credit eccetera con il governo americano si devono impegnare a non per dieci anni a non aumentare la loro capacità produttiva di semiconduttori in paesi stranieri che preoccupano come la Cina no ecco quindi non si e addirittura lo sappiamo c'è il caso non so se avete visto report di qualche giorno fa o di qualche forse non di questa settimana della precedente ecco si parlava dell'azienda olandese che produce i macchinari per per fare i micro i semi insomma i microchips ecco che il governo olandese non l'azienda l'azienda infatti dice ma noi perdiamo un mercato perché questo succede anche negli Stati Uniti rispetto a queste aziende americane che dicono ma noi il mercato cinese sono 400 miliardi di dollari cioè non è un mercatino ecco voglio dire per vendere i chips poi i chips noi sappiamo che nel mondo diciamo la posizione da 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 leone è quella di Taiwan che produce oltre il 60% del forse anche il 66% della produzione globale poi c'è la Corea del Sud con giganti Taiwan c'ha TSMC come grande gigante la Corea del Sud c'ha Samsung poi c'ha il Giappone questi tre paesi da soli fanno circa l'80% della produzione dei microchips poi Stati Uniti e Unione Europea fanno meno del 5% torna al 5% per ciascuno e poi c'è la Cina che con la sua SMIC dove la Cina ha questo è l'anello più debole ovviamente sta investendo tanti soldi ma è l'anello più debole e le misure prima di Trump e poi di Biden che fanno sì che la Cina non possa né comprare i macchinari da per esempio questa azienda olandese né già adesso né i microprocessori di ultima generazione che sono quelli che stanno sotto i 10 nanometri ecco che sono poi diciamo da un lato copyright di aziende come Intel e altre americane che nella progettazione però poi nella produzione sono sostanzialmente fatte a Taiwan per tutto il resto del mondo ecco allora qui la cosa interessante che volevo che vorrei anche così evidenziare adesso già ci sono 40 progetti per 200 miliardi di investimenti che sono stati annunciati sulla storia del microprocessori degli Stati Uniti e sostanzialmente prevedono che diciamo delle dal 5 al 15 per cento del capitale che viene speso però possono arrivare anche al 35 per cento di soldi pubblici che vengono messi nei progetti il punto è che Biden ha continuato questa storia soprattutto dei microprocessori a mettere delle condizioni che non piacciono molto tipo al Wall Street Journal all'American Chamber of Commerce cioè non piacciono perché ovviamente impongono dei vincoli e tra questi c'è che le imprese che riceveranno più di centocinquanta milioni di dollari in finanziamenti diretti dovranno condividere con il governo americano una porzione del cash flow o i ritorni che superano le proiezioni del beneficiario quindi che vuol dire che c'è un progetto un business plan no? Ecco se tu vai oltre quelle previsioni metti a un grande successo devi condividere con con lo Stato americano con il governo federale una quota di di profitti poi sostanzialmente ecco una forma di profit sharing che dovrebbe essere concordata almeno all'interno di una soglia cioè che arriva poi fino ad un massimo del 75% dei fondi ottenuti ok ok inoltre le imprese saranno tenute a fornire appunto anche qui c'è l'aspetto del lavoro high quality and affordable child care qui parliamo di child care vuol dire asili vuol dire diciamo tutta la parte che riguarda i bambini inizialmente per la per quando devono essere costruiti gli impianti no quindi bisogna costruire l'asilo mentre costruisci l'impianto per cui i figli dei lavoratori che stanno lì possono avere un'assistenza diciamo un care con dei caregivers no ecco che se ne prendono cura quindi kindergarten asili in particolare però queste strutture poi sono destinate a rimanere quindi questi asili questi questi spazi diciamo per i bambini saranno poi per i dipendenti quindi poi le aziende dovranno gestire anche questo tipo di servizio ovviamente questa è una misura osteggiata dai repubblicani dal vostro journal c'è stato un articolo ho letto anche un articolo su foreign policy che criticava questa roba insomma no altra condizione riguarda i riacquisti di azioni i buybacks qui c'è un discorso che non è così chiaro nel senso che si parla di monitoraggio per cinque anni cioè che in pratica l'azienda si come dice si impegna a farsi a farsi scrutare dal governo per cinque anni in questo meccanismo del buybacks di azioni però non c'è nessun tipo di tetto nessun tipo di niente di condizionalità effettiva ricordo che negli ultimi negli ultimi dieci anni le aziende hanno speso cinque trilioni di dollari per per riacquistare le loro azioni negli Stati Uniti un trilione solo nel 2022 stiamo parlando di una montagna dei soldi questa operazione si fa per sostanzialmente favorire gli azionisti e poi ovviamente anche il management perché ha i suoi put le sue cose le sue opzioni eccetera ed è un modo invece di investire ecco si danno i soldi agli azionisti no? in maniera tale da far salire anche il titolo in borsa che ovviamente qui per esempio Intel ha fatto ha riacquistato azioni proprie che è uno dei protagonisti del settore dei microprocessori dal 2005 per 100 miliardi di dollari poi abbiamo alcune altre condizionalità soprattutto nella parte di questa cosa del CIS adesso poi vedremo se su anche sull'IRE ci saranno queste condizionalità le aziende che vengono sussidiate dovrebbero creare opportunità per aziende di proprietà di minoranze veterani e donne cioè nella logica che nella filiera nella supply chain bisogna dare privilegi diciamo una specie di affirmative action rispetto a minoranze veterani e donne dimostrare responsabilità ambientale si tratterà poi di vedere cosa vuol dire da un punto di vista concreto investire nelle comunità locali e quindi favorire processi di inclusione utilizzare ferro acciaio materiali da costruzione prodotti in Stati Uniti perfetto poi c'è questo discorso di lasciare anche qui il diritto ai lavoratori di formare sindacati ecco poi vabbè poi appunto c'era questo discorso di non esportare in Cina sostanzialmente e di evitare di fare qualsiasi diciamo attività di ricerca con paesi che non con aziende di paesi che gli Stati Uniti che non piacciono agli Stati Uniti e oppure di dare delle licenze ora la cosa interessante torno un attimo all'ARE poi arrivo all'Unione Europea quindi poi ho finito è che la preoccupazione europea adesso poi sembrerebbe che ci sia un accordo ma per un mese e mezzo due mesi c'è stata una paranoia che girava per l'Europa rispetto al fatto che appunto nella logica della rindustrializzazione degli Stati Uniti quindi utilizzare queste misure questi pacchetti per cercare di far tornare un'attività manufatturiera negli Stati Uniti nei settori più avanzati ricordo soltanto che oggi oggi la forza lavoro americana impegnata nell'attività manufatturiera equivale all'otto per cento di tutta la forza lavoro tutto il resto sta nei servizi quindi quando si parla di deindustrializzazione degli Stati Uniti dagli anni ottanta in avanti è una cosa che è successa veramente e Trump non è che ha vinto le elezioni in quegli stati della Rust Belt a caso perché effettivamente c'è stato come dire una una completa distruzione diciamo o comunque chiusure pazzesche e il processo di delocalizzazione l'investimento in Cina è stato più che reale o in Messico o nel Canada perché poi ricordiamo che gli Stati Uniti hanno un accordo NAFTA dove che adesso si chiama in un altro modo si chiama UMSC che però riguarda il rapporto tra Stati Uniti Canada e Cina rispetto all'attività manufatturiere scusate Messico ecco Messico c'aveva poi quel programma con gli Stati Uniti quello che si chiamava Machia Dora dove c'era la possibilità di costruire investire al di là del confine utilizzare la manodopera messicana a bassissimo prezzo senza sindacalizzazione e tutto rimportare il prodotto negli Stati Uniti senza dover pagare nessun tipo di dogana ecco quindi free trade totale questa cosa vale anche per questa questa IARE cioè viene estesa sostanzialmente sia al Messico che al Canada ma non si parlava dell'Unione Europea e questa cosa tagliava fuori tagliava fuori cosa cosa prevede diciamo questa cosa diciamo intanto che c'è una componente buy American che è la parte cosiddetta chiamata protezionista ma in realtà è il discorso se tu vuoi rindustrializzare il paese da qualche parte dovrai cominciare dai soldi all'impresa e poi cerchi di fare in modo che una parte almeno del contenuto dei componenti dei prodotti sia stata prodotta negli Stati Uniti e qui la cosa è questa che la soglia è del 40% di componenti prodotti negli Stati Uniti ma questi possono essere appunto dei subcomponenti importati che vuol dire che tu potresti produrre in Europa a mettere dentro un 40% di componenti che arrivano dagli Stati Uniti e poi risportare e garantirti diciamo tutti i benefici in termini di esenzioni fiscali e anche sussidi da questo pacchetto poi il tax credit rispetto all'investimento può essere del 30% o del 40% il 30% per esempio di un intero impianto di fatto energetico con energie rinnovabili o il 40% se le regole del contenuto domestico sono rispettate cioè se tu non rispetti le regole comunque tu hai la possibilità per un 30% cioè se tu non metti sto 40% di componenti americani comunque se si fa un impianto per esempio eolico e si usano le turbine europee anche se non c'è il 40% quell'impianto può avere un 30% di tax credit ok se c'ha il 40% di componenti arriva fino al 40% di tax credit no? Ora adesso questa cosa sembrerebbe la Fonderlion l'adappositamente a trovare Biden qualche giorno fa per cercare di fare in modo che in pratica l'Unione Europea dovrebbe essere esteso questo rapporto che c'è tra gli Stati Uniti il Canada e il Messico e quindi forse tutte queste preoccupazioni di essere stati esclusi da sto mercato non ci dovrebbero essere però è chiaro che le aziende automobilistiche siccome le batterie sono una delle cose fondamentali quelle tedesche in particolare dalla BMW alla Volkswagen eccetera hanno minacciato e minacciano vedremo insomma di fare investimenti pesanti invece di farli nell'est Europa dove chiaramente noi sappiamo come funziona il meccanismo del decentramento produttivo tedesco soprattutto per le fasi diciamo meno meno importanti da un punto di vista e dove più le pro intensive ecco le hanno tutte decentrate in paesi come la Polonia in paesi come la Cecchia la Slovacchia in parte anche l'Ungheria dove ci sono milioni di lavoratori che costano un terzo degli operai tedeschi ecco e poi dopo sono a 100 km di distanza e quindi voglio dire non è la Cina con costi quindi logistici e di organizzazione molto contenuti prima c'era anche l'energia sovietica scusate russa il gas che arrivava e che teneva bassi costi e poi comunque tutta una serie di attività manufatturiere di qualità vengono ancora fatte almeno fino a che non verrà di industrializzata vedremo come succede perché ci sono delle minacce soprattutto ai settori energivori l'Italia come la Germania che sono i due paesi che ancora hanno un settore industriale degno di questo nome in Europa l'Italia c'è ancora il 28% della forza lavoro che lavora nel manufatturiero la Germania forse ancora un po' di più però quest'ultimo anno credo che sia stato anche un anno molto 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 difficile ora cosa prevede cosa prevede diciamo l'Unione Europea cosa ha previsto fino adesso adesso domani giovedì la commissione svelerà alcuni piani industriali fino adesso ha svelato un piano generale che è quello del Green Deal Industrial Industrial Plan cioè il il piano industriale Green Deal il Green Deal la von der Leyen l'aveva presentato come progetto diciamo due anni fa però non c'era sostanza era solo un manifesto ideologico con dei numeri dei target degli obiettivi da raggiungere poi invece è diventato adesso sulla scorta appunto di tutto sto caos di competizione per le politiche industriali a livello globale è diventato un piano industriale presentato il primo di febbraio ora domani nei prossimi giorni viene presentato quello diciamo la parte che dovrebbe essere poi operativa di questo piano che da una parte c'è sono alcuni alcuni pezzi ci sono altri tre pezzi che sono il Net Zero Industry Industry Act cioè il l'atto la legge diciamo per la produzione industriale a zero netto diciamo quindi che dovrebbe quella che dovrebbe puntare direttamente sulle industrie pulite per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050 ok qui questo documento che credo non so se domani o giovedì quando rappresentato però è quello che dovrà fissare obiettivi e capacità e la capacità industriale i settori sono sempre quelli le batterie le pompe di calore l'idrogeno la cattura del carbonio punto interrogativo il nucleare non è chiarissimo se quel nucleare starà dentro questo pacchetto ci sono c'è chi dice di sì c'è chi dice di no ecco però appunto il tema è sempre quello centrale le batterie l'auto elettrica e sappiamo che cosa è successo nelle scorse settimane su questa cosa praticamente i paesi che producono automobili a combustione che sono poi sostanzialmente la Germania l'Italia in parte la Francia ecco si sono messi di traverso si era detto che la combustione doveva essere fuori almeno in termini di macchine prodotte nuove nel 2035 questa cosa è stata bloccata perché ovviamente noi sappiamo benissimo che per produrre un'auto con batteria rispetto a un'auto a combustione significa sostanzialmente destrutturare completamente la catena la supply chain dell'industria automobilistica perché la macchina a batteria ha un terzo dei pezzi dei componenti di un'auto a combustione il motore ha bisogno di viti cose pezzi carburatori cose la batteria è un pezzo unico e vale un terzo forse più di un terzo del valore totale dell'automobile a noi ci mette fuori tutta la famosa valle dell'emiliana insomma dove c'è la Ferrari ma ci sono tutte quelle industrie metallmeccaniche che lavorano sull'indotto dell'auto e lo stesso succede per la Germania quindi è chiaro che c'è una lotta di interessi di cose e vedremo come andrà a finire ci sono 11 governi comunque che si sono schierati tra cui appunto Italia, Germania e Francia ma sono 11 governi e credo che in questi giorni si riuniranno per cercare di avere una piattaforma comuna l'auto elettrica si dice insomma tutto sto pacchetto sulle nuove tecnologie manufatturiero eccetera viene così presentato come un mercato che in Europa nell'Unione Europea avrà 600 miliardi nel 2030 di valore quindi questo Net Zero Industry Act di cui sapremo presto insomma tra domani e giovedì che cosa cosa c'è poi c'è un secondo piano che è il Critical Raw Material Act cioè che riguarda le materie prime quelle quelle che dovrebbero andare a sostenere da un punto di vista di come materia prima questi settori manufatturieri e sono le solite materie prime strategiche cioè le terre rare ora considerate questo che a proposito di politiche industriali eccetera l'Unione Europea i paesi dell'Unione Europea il minerario ecco il settore minerario pesa rispetto al globale minerario cioè in tutto il mondo è praticamente intorno al 5% cioè noi praticamente l'obiettivo di questa roba è arrivare al 10% che è una roba gigantesca perché voglio dire significa aprire miniere un po' dappertutto e il problema è che quello che abbiamo visto in Portogallo in Serbia ultimamente è che questa roba non funzionerà molto facilmente che le popolazioni locali sì il lidio ci serve no questo quell'altro ci serve il cobalto però noi la miniera qui non la vogliamo anche perché allora l'Unione Europea dice che bisognerà utilizzare delle tecnologie sostenibili ecco vabbè questa l'abbiamo già sentita diciamo ecco però allora ovviamente l'alternativa è quella di fare accordi con i soliti paesi che sono quelli che abbiamo dal 1492 come europei saccheggiato e in particolare quelli che ci hanno più minerali di questo genere come il Cile il Brasile la Repubblica Democratica del Congo no pensate bene che per esempio di queste terre aree la Turchia ha la produzione in questo momento del 99% del boro che serve per fare è una componente fondamentale per il settore eolico il 63% del cobalto mondiale sta nella Repubblica Democratica del Congo insieme poi col coltan e tanti altri minerali il 97% del magnesio ce l'ha la Cina al momento quindi si deve aprire le famose miniere aprile però al momento la Cina c'è il 97% del magnesio poi vabbè ci sono altre cose il litio il silice il titanio sulle terre rare la Cina c'è il 60% della produzione e l'80% della raffinazione perché poi non basta solo tirarle fuori bisogna avere anche tutta la filiera industriale che ti porta appunto alla raffinazione e quindi ai prodotti allora il quarto strumento che l'Unione Europea intende utilizzare che dovrà essere presentato anche questo a giorni riguarda la riforma del mercato elettrico perché poi ovviamente a seguito anche di questa perniciosa guerra in Ucraina tutta la tutto l'aspetto energetico e quindi di come funziona poi il mercato elettrico in Europa è saltato per aria ora chiudo diciamo su alcune cose che riguardano i fondi perché mentre gli Stati Uniti è chiaro che ci mettono soldi soldi veri nel senso che ci sono questi pacchetti tra le altre ecco mi ero dimenticato cioè c'è il precedente del del chips act europeo perché anche anche in Europa si è fatto un chips act anzi si è fatto prima di che lo facessero gli Stati Uniti ovviamente anche qui la produzione del è un chips act da 43 miliardi di euro si dice il punto vero è che i soldi veri sono pochissimi 43 miliardi sono quelli che poi in realtà dovrebbero essere mobilitati mettendo gli Stati e mettendo l'Unione Europea un po' di soldi ovviamente si sono subito presentati multinazionali globali come Intel a cercare di prendere questi soldi perché poi la tecnologia non è che la inventi in un attimo cioè se non c'ha le imprese alla fine o chiami cinesi o chiami quelli di Taiwan almeno o chiami gli americani cioè nel senso che sono quelli che hanno hanno fanno diciamo hanno stanno parte dell'oligopolio dei microprocessori ora su questa cosa appunto io l'avevo ci avevo scritto anche una cosa cioè quindi questi soldi che l'Unione Europea dice di mettere molto spesso sono soldi che in realtà di cui l'Unione Europea mette una specie come quando si fa pochi che rimette il chip e poi il resto devono mettere gli altri insomma nella sostanza ecco gli stati e quindi su questa cosa interessante è che su questa politica industriale c'è questa battaglia per cui è stato fatto l'allentamento dei sussidi degli aiuti dello Stato e quindi che è una delle cose su cui Maastricht si era costruita cioè che non si poteva lo Stato doveva sta fuori e quindi le politiche industriali si potevano fare si poteva fare la svalutazione del lavoro dei salari eccetera ma non si poteva fare la politica industriale e quindi l'Italia per esempio appunto noi abbiamo salari che sono più bassi rispetto a 30 anni fa ecco perché noi siamo entrati proprio dentro la logica della svalutazione del lavoro ora comunque l'Unione Europea promette di metterci un sacco di soldi ma utilizzando una pletola di fondi vi elenco velocemente perché poi appunto c'è l'aspetto dei fondi per la coesione vabbè sono 100 miliardi poi ci sono i fondi nazionali legati all'allentamento degli aiuti di Stato c'è questo fondo che si chiama IPCEI cioè Important Projects of Common European Interest che è uno strumento agevolativo e diciamo adesso non so esattamente quanti soldi abbia però poi c'è il Repower EU che è stato approvato a fine 2022 sono circa 20 miliardi che dovrebbero mobilitare altri 225 miliardi poi c'è l'Invest EU program 26,2 miliardi per mobilitarne 372 cioè nella logica appunto che poi il grosso dell'investimento è comunque l'impresa privata è sempre l'impresa privata l'impresa pubblica qui non compare mai ancora poi ci sono le banche europee con dei fondi c'è la AIB e l'AE AIF che sono con un miliardo di cofinanziamenti su vari progetti poi ci sono questi famosi soldi che abbiamo avuto anche noi del Next Generation EU se non si riescono a spendere probabilmente l'Unione Europea consentirà di adattare di spostarli e per finanziare appunto alcuni progetti poi c'è l'Innovation Fund 40 miliardi di euro in 10 anni il fondo sovrano europeo e su cui si discute è la cosa che divide su cui gli europei si stanno spaccando come sempre in discussione doveva essere presentato è stato annunciato dentro il Green Deal Industrial Plan però non c'è traccia e al prossimo consiglio dovrebbero essere prese decisioni la Francia e l'Italia che si sono scazzati per un po' di tempo su questa cosa si sono trovati da Meloni e diciamo il nostro Giorgetti o chi per lui si sono si sono accordati con l'EMER dicendo che ci vuole un fondo sovrano europeo assolutamente perché noi abbiamo una situazione di debito tale che gli aiuti tu puoi allentarli quanto lo vuoi gli aiuti statali ma tu non potrai mai mettere veramente seriamente dei soldi viste quelle condizioni di debito in cui stiamo ma anche la Francia non è che sta meglio di noi e quindi hai bisogno di un fondo che in qualche misura ti garantisca l'accesso a dei capitali se no sono tutte chiacchiere l'unica che ha la possibilità da un punto di vista di mettere dei soldi pubblici è ancora la Germania e quindi è chiaro che la Germania come abbiamo visto anche rispetto a quando sono stati allentati rispetto a aiutare rispetto al problema del gas e dell'energetico la Germania ha speso da sola il 60% di tutti i soldi che di aiuti di Stato che i paesi europei hanno dato alle famiglie alle imprese eccetera poi c'era la Francia poi l'Italia c'era 7 miliardi ma ecco voglio dire comunque l'ultime due cose ecco che volevo dire vorrei dire è che ovviamente bisogna considerare che se viviamo tempi grami c'è una guerra in corso e quando uno parla di politiche industriali dovrebbe ricordarsi anche che le armi il settore delle armi il military industrial complex diciamo è un pezzettino importante anche perché poi nel caso per esempio italiano la Leonardo è ancora una cosa pubblica ma c'è poi anche l'Airbus per dire a livello europeo che fa parte diciamo dello logopolio globale o comunque sicuramente europeo ma comunque globale ecco su qui chiaramente gli Stati Uniti sono avvantaggiati uno perché ci hanno un bilancio per il 2023 per essere chiari per la difesa di 858 miliardi di dollari ecco e hanno poi quelle quattro aziende che sono la Lockheed Martin la Boeing la Rayton la General Dynamics che da sole sono diciamo fanno la parte del leone ecco e quindi diciamo addirittura noi in Europa siamo riusciti a utilizzare ho visto questa notizia sull'avvenire ecco diciamo complessivamente 14,3 miliardi di armi che abbiamo dato all'Ucraina attenzione sia come UE come stati ma l'Unione Europea è riuscita a utilizzare il fondo per la pace per che era di 5 miliardi è stato completamente svuotato per finanziare per comprare le armi e darle agli ucraini quindi poi è un po' ruelliana la cosa ma è avvenuto anche questo ecco io più o meno adesso queste erano le cose che volevo dire poi dopo se ci sono delle cose io magari posso anche rintervenire ma mi piacerebbe anche partecipare a sentire anche la discussione da parte degli altri grazie grazie Alessandro davvero un quadro esaustivo della della situazione e non so se ci sono domande o interventi di chi sta seguendo chiedo Alessandro Franco Ernesto prego no voglio soltanto fare una domanda ingenua però mi ha suscitato un il tuo intervento mi ha suscitato una curiosità tutte queste politiche industriali basate su sussidi alle imprese private accompagnate da politiche protezionistiche sono in netto contrasto con le normative del VTO allora mi domando ma il VTO è uscito di scena non c'è più non funziona più come mai io mi ricordo 15 anni fa era una potenza ed era era proibito fare questo tipo di politiche i paesi le facevano già allora gli Stati Uniti facevano politiche protezionistiche però poter non essere denunciati c'erano dei procedimenti con anche delle sanzioni adesso qual è la situazione come mai tutti i paesi più importanti riescano a fare cercano di fare queste politiche industriali e professionistiche e alza la voce allora la cosa era diventata evidente durante Trump ma adesso è totalmente super evidente solo che non se ne parla ed è questa praticamente gli Stati Uniti utilizzano la la giustificazione dell'interesse nazionale che è una cosa molto discutibile ma che comunque crea casino perché in pratica tu dovresti dimostrare che per dire l'acciaio cinese o per dire il microchip è una cosa è un pericolo però siccome hai creato un clima in cui c'è la guerra fredda sostanzialmente oppure addirittura la guerra calda dopo diventa diventa difficile e questo è un primo passaggio il secondo passaggio è che gli Stati Uniti hanno deliberatamente distrutto l'Organizzazione Mondiale del Commercio perché la struttura esiste ma l'elemento chiave che è il suo quello che in inglese si chiama appellate body cioè quello che poi diciamo dopo una prima condanna deve tutti fai arriva la condanna ingiudicato per intenderci ci sono dei giudici e questi giudici nel periodo di Trump sono andati in pensione ecco e gli Stati Uniti che avevano il diritto di nominarli adesso io poi nel dettaglio non lo so non l'hanno mai fatto per cui l'appellate body non funziona non c'è tant'è vero che l'Unione Europea a un certo punto si era inventato insieme con la Corea con altri paesi una specie si è inventato una specie di forum che ovviamente è tutto attualmente volontario che deve supplire a questa a questa mancanza però non è che hanno fatto una battaglia politica contro gli Stati Uniti per dire cazzo voi avete una responsabilità è una cosa che avete inventato voi tra le altre cioè l'hanno inventata gli Stati Uniti è una delle cose di Bretton Woods come discendenza quindi del sistema che loro sono quelli che sostengono che bisogna rispettare l'ordine internazionale basato sulle regole poi queste regole ogni tanto loro le cambiano e quindi uno si adegua o accetta che gli Stati Uniti ma ultimamente la cosa interessante se tu fai una ricerca io ho degli articoli ma comunque la Cina è riuscita a far condannare gli Stati Uniti per le politiche protezionistiche in prima in prima istanza hai capito però gli Stati Uniti se ne fregano perché non c'è diciamo quella 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 dimensione istituzionale superiore che poi combina quanto paghi ricordate ancora l'ultima grossa battaglia è stata fatta sui sussidi Airbus e Boeing dove ancora c'era ancora c'erano i componenti e quindi si arrivò a c'era questa guerra che si trascinava da dieci anni per i sussidi dati da Unione Europea paesi come la Spagna la Germania eccetera l'Airbus e dall'altra parte però soldi dati alla Boeing da anche lì pubblici americani e e si arrivò le sentenze poi dopo si misero d'accordo e disse vabbè siccome tu io siamo stati entrambi condannati facciamo finta che il problema non c'è e quindi si sono diciamo e poi era la fase in cui tra gli Stati Uniti e Europa si cercava di tornare un po' come adesso con Biden nell'inizio di Biden tornare ad essere diciamo tra virgolette un'unica coalizione a livello globale e quindi questa roba qui è stata tolta di mezzo ma è stato distrutto è stato boicottato il il quel sistema lì e quindi non c'è più nessuno che stabilisca quali sono le regole e quindi gli Stati Uniti stanno facendo quello che gli pare ma chiaramente lo farà anche l'Unione Europea da questo punto di vista perché tant'è vero le politiche industriali anche quelle europee non sarebbero consentite perché sarebbero aiuti di Stato e tutto il resto quindi che è una delle prime regole dell'organizzazione mondiale del commercio ed era uno dei motivi per cui la Cina è sempre stata colpi attaccata perché si diceva eh ma il sistema cinese non è trasparente ci sono le le aziende di Stato no? che poi vengono salvate le banche le finanziano eccetera eccetera e quindi la Cina è fuori dalle regole però quello che la Cina ha e qui chiudo è che appunto ha un sistema come noi avevamo negli anni 50 60 fino a fino alle privatizzazioni probiane e le altre c'era un'economia mista dove c'è un'economia mista dove chiaramente in caso cinese alcune di queste aziende di Stato sono delle multinazionali che si sono comprate anche aziende in Europa negli Stati Uniti dovunque ecco però poi c'è un settore privato no? che è fatto anche da giganti Alibaba era privato poi Jack Ma abbiamo visto che fine ha fatto quindi poi diciamo che nella Cina ecco il ruolo del diciamo dell'imprenditore capitalista non è così saldo no? come come da noi diciamo dove grazie Alessandro vorrei dare la parola a Franco che l'ha chiesta Franco Russo sì grazie mille no innanzitutto un grazie di sincero per la messa di informazione che Alessandro ha messo in fila che ci aiutano appunto a comprendere le dinamiche che sono fra i tre grandi blocchi che oggi si dividono il mondo quindi ancora un grazie volevo farti due domande Alessandro una è molto specifica cioè a dire tu hai parlato che l'IRA stanzia l'IRA l'Inflation Reduction Act stanza 730 miliardi di dollari di cui 300 miliardi per il deficit mi dici tecnicamente come avviene questa operazione perché mentre capisco ovviamente i 370 miliardi di incentivi cioè mettono moneta o bond insomma da parte del tesore e quindi vanno non capisco invece il meccanismo proprio tecnico in cui loro pensano di ridurre il debito emettendo cosa cioè quindi questa è una prima domanda o forse non ho capito bene io la seconda invece è questa più la domanda più generale con la guerra in Ucraina e la e la e la crisi precedente diciamo del covid e gli Stati Uniti ma soprattutto con la guerra in Ucraina sono diventati i primi fornitori in Italia di gas e oil sommando a questa primi fornitori di gas e oil il ruolo che gli Stati Uniti hanno nel complesso militare industriale che tu richiamavi vorrei capire a tuo giudizio una tua valutazione se si va riconsolitando a tuo parere un'alleanza euro-atlantica molto solida a guida degli Stati Uniti per competere con la Cina e contenere ovviamente in Europa la Russia oppure se tu vedi comunque in questo blocco euro-atlantico non solo le frizioni che tu hai descritto per quanto riguarda gli incentivi per l'energia e tutti gli altri campi che hai enunciato oppure se comunque tu vedi che l'Europa riesca ad essere un interlocutore autonomo visto che ho chiuso la domanda che l'Unione Europea parla sempre di recupero di sovranità sia a livello diciamo della difesa militare sia a livello diciamo delle politiche industriali quindi queste sono le due domande che ti volevo fare grazie allora sulla prima il discorso dei 300 miliardi quello che ho capito io è che in realtà vengono recuperati di fatto messi a bilancio rispetto a una tassazione dei buybacks cioè dei riacquisti di azioni cioè hanno alzato la percentuale sugli acquisti che devi pagare di tassi mi sembra un 5% e quindi quella roba lì alla fine viene valutata in 300 miliardi ho capito perfettamente grazie mille poi la seconda domanda è ovviamente qui entriamo un po' nei discorsi diciamo molto interessanti però tutti tutti un po' speculativi ecco io ho la sensazione che diciamo questa 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 coalizione sia molto fragile in realtà per uno per motivi interni degli Stati Uniti cioè noi dobbiamo pensare che i repubblicani parlano di guerra di Biden ecco e praticamente da settembre cioè Biden ha ancora 4-5 mesi se questa guerra non porta dei risultati è fottuto perché da settembre comincia la campagna elettorale dopodiché sono tutti altri cavoli e fino a settembre lui ce l'ha i soldi per l'Ucraina perché nel budget che ha fatto passare quando c'era la maggioranza cioè nel periodo tra novembre e dicembre è riuscito a farsi fare un budget che copre tutte le spese interne e anche questi soldi da mandare all'Ucraina fino a settembre dopodiché quindi i tempi sono stretti più in generale la coalizione si gioca tutto sul fatto che c'è Biden e questi democratici neoconservatori cioè che sono diciamo hanno adottato la visione come dire di politica estera di Rumsfeld e di tutti gli altri che sono venuti prima che erano poi repubblicani o anche democratici ma comunque questi sono questo cioè il tema è la potenza e il dominio degli Stati Uniti sul resto del mondo dopodiché da soli non ce la possono fare devono avere l'Europa e però questa guerra è qui elemento di frizione questa guerra sta mettendo KO da un punto di vista economico l'Unione Europea cioè gli ucraini si sono si sono dati volontari per farsi ammazzare dai russi diciamo e va bene ma noi ci siamo dati volontari per farci destrutturare il settore economico e produttivo la Germania ma la stessa Italia da cui molta del settore industriale dell'Italia sono legati da un punto di vista delle supply chains delle catene del valore all'industria tedesca penso soprattutto alla metalmeccanica dopodiché certo noi abbiamo le famose 4A l'abbigliamento le scarpe il made in Italy ecco quello quello lo puoi vendere e sta andando benissimo come al solito è quello che ci salva come dire il deretano ecco però da un punto di vista economico però tutte le tutte le altre attività industriali sono sono in difficoltà il costo dell'energia adesso poi sul piano dell'energia gli Stati Uniti hanno un problema che loro hanno il fracking e queste tecnologie però non riescono hanno bisogno di un mercato più ampio di quello che è solo gli Stati Uniti per riuscire a rendere queste attività sostenibili mi ricordo che durante la pandemia c'è stato un crollo totale con finanziariamente e da un punto di vista anche tutto il fracking perché ci fu una contrazione dei consumi adesso è ripartito però il problema da quello che ho capito è che se non si supera una certa soglia di mercato di volumi ecco i prezzi rimangono alti anche negli Stati Uniti ecco quindi l'Unione Europea in realtà viene utilizzata per cercare di costruire questo mercato più ampio no? però poi noi ci siamo organizzati per esempio penso all'Italia no? l'Algeria che ne so l'Angola forse Israele adesso fra un po' l'Egitto perché questi hanno il gas Qatar ovviamente ecco e così hanno fatto anche i tedeschi hanno fatto l'accordo col Qatar quindi diciamo non so ecco però da un punto di vista Poli da un punto di vista di questa coalizione molto dipenderà da come va questa guerra e magari nei prossimi settimane anche anche alla luce di questa di questa città che dove si si combatte casa per casa in questi giorni forse questo sarà una specie di turning point ecco per vedere se abbiamo visto ecco l'ultima cosa il military industrial complex quello che quello che a me personalmente ha stupito molto è che avete visto tutta questa discussione sui carri armati i cannoni eccetera si scopre che in Europa ci sono tutti i paesi dell'Unione Europea hanno 4.000 carri armati di cui più del 50% ha più di 30 anni cioè quindi anche noi dovremmo forse un attimo stare più calmi quando parliamo del military industrial complex perché sicuramente questi fanno pagare le cose come fosse l'odoro però poi nella realtà 4.000 carri armati di cui tutta Europa di cui più del 50% hanno più di 30 anni cioè voglio dire non è credibile come cosa e alla fine per mandare 150 leopard o quello che è ci è voluto un mese e mezzo di discussione in cui sembrava quindi bisogna capire anche perché forse non ci sono più anche le industrie militari forse lavorano su just in time quindi non hanno più magazzini non hanno più le cose ma da quello che si sa la guerra in Ucraina consuma da una parte e dall'altra ciascuno consuma almeno dai 7.000 ai 10.000 proiettili di grosso calibro la Russia fa la guerra con i cannoni questo è evidente e quindi ne spara e ne spara tanti quindi anche qui vediamo non lo so io ho la sensazione che andremo a prendere una bella facciata con questa guerra nel senso che la NATO e come dire la coalizione occidentale dovrà prendere atto che questa guerra non la può vincere come non ha vinto tante altre guerre tutte quelle gli Stati Uniti poi dalla guerra di Corea a scendere non hanno vinto nessuna guerra quindi forse sarà questa la questione chiave poi chiudo grazie Alessandro non ho altre richieste di intervento però insomma mi sembra di poter dire che la questione è stata ampiamente sviluppata quindi non penso ci siano ulteriori aggiunte da fare solo ricordo che questa come le altre iniziative che abbiamo fatto come osservatorio sarà pubblicata sul sito di Transforma Europa e volevo ringraziare anche Roberto Rosso perché ci ha segnalato alcuni link attraverso dei link alcune informazioni utili per correlare il discorso e corredarlo con elementi di analisi e anche questi chiaramente saranno parte della pubblicazione che faremo mercoledì intanto vi ringrazio ringrazio a tutti i partecipanti ringrazio Alessandro grazie Alessandro prego quanto piacere Roberto grazie a voi e ci diamo appuntamento prossimamente per nuovi nuovi seminari nuovi incontri per continuare a seguire quella che sono le vicende dell'Unione Europea e più in generale dell'Unione Europea nel mondo grazie 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 a tutti ciao 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 Grazie.